Ragazzi, ora facciamo Inno alla Gioia mai fatta, mai sperimentata, cioè sperimentata con il piano forte come lo sapevo prima, cioè come ho imparato Inno alla Gioia che ero piccolo con la diamonica, uno degli unici pezzi che ho voluto imparare alle scuole medie perché io poi ho cominciato a suonare alle scuole superiori, quindi alle scuole medie non mi interessava la musica, poi alle scuole superiori mi muovono. Però la scuola medie prima imparai inno alla Gioia che mi porta ancora oggi dentro. E che cazzo è giusto, è una creatura su. Ma che cazzo è un po' che da un giudeico, è un po' che cazzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non me lo aspettavo perché pensavo che in Nara Gioia uno trovava più karaoke di tutti i tipi, invece non ho trovato un cazzo in Nara Gioia. E se no poi forse vi do appuntamento a dopo col violino comunque, la tromba non muove, è troppo tardi.